stasera io e costi andiamo alla prima di maleficent costi confermi e allora ci sentiamo un po in colpa per guida alberto e cola che restano a casa da soli da soli con i moni e la tata e allora cosa abbiamo preso la sergione di san saba però come faccio a dire a guida alberto massimo due costi secondo che ascolterà pure no bene grazie della fiducia che diamo a mio figlio a tuo fratello costi un commento a questo film la più bella e poi lei e poi e poi te ma che c'è giusto perché lei è la mia come si dice in inglese step tutta brava brava abbiamo trovato anche costi cosa dove ce li mettiamo in testa vogliamo ringraziare valeria castelli brava vale brava vale perché ha detto costi viene con te le altre no la bellezza della genna gioia tu ti l'hai rifatta è vero che non è rifatta rosicone non rifatta per niente no è così ma poi è tanto bella quanto gentile ma la gentilezza quando io ne ho chiesto i staff lei mi ha guardato se c'è la tua figura te so come no che voglio si può la spesa no ti è io allora l'insalata tu i pomodori i selfie solo che era Angelina gioia e io che mi ha messa le corne lei mi ha guardato ah le corne che le ho rubate io le ho parito c'è lui a casa lì dammele che mi hai portato per ringraziarmi che ti ho lasciato intervistare ovvio ragazzi perché tanti parlano ma io voglio vedere chi si sarebbe defilato davanti alla gioia lì facendola intervistare a qualcun altro ecco